Siamo con Mr. Di Filippo, avete espresso un buonissimo calcio oggi, soprattutto nel primo tempo, avete messo in grossissima difficoltà il Brescia. Come giudica la partita? Vi aspettavate poi un Brescia schierato in questo modo? È stata una bella partita da entrambe le parti sicuramente. Ci aspettavamo un Brescia pronto, già bello tirato in fase campionato e Champions League e lo abbiamo trovato. Noi abbiamo cercato di metterci anima, cuore come hanno fatto le ragazze e siamo andati a lavorare soprattutto sulla fase difensiva. Tutte le ragazze si sono comportate bene, hanno fatto molto bene. Io sono soddisfatta della partita, peccato per come è andata a finire. In che modo siete riusciti a bloccare il Brescia? Abbiamo lavorato durante la settimana andando ad attaccare sia i centrali di centro campo con Nasutti, chiudendo il gioco su Nasutti, che sugli esterni, Cernoia e Bonansea. Abbiamo dato un occhio di riguardo alla fase difensiva e quindi lavorando su Girelli e Sabatino, che comunque è sempre stata la nostra bestia nera, ci ha sempre fatto gol. Siamo andati a lavorare per reparti. Grazie e in bocca al lupo per il proseguimento della stagione. Crepi, grazie e altrettanto a voi.